amici di atti sport 24 benvenuti ad una nuova puntata di due metri la pallannuto vista da vicino ci soffermiamo oggi a parlare di telemar palermo e per analizzare le vicende legate alla formazione siciliana abbiamo con noi il centro boa del club presieduto da marcello giriberti luca marziali ciao luca bentornato ciao a tutti luca partiamo da quella che è stata la vostra ultima uscita ufficiale l'esordio nel round scudetto il match giocato e perso sabato scorso alla bianchi contro la pallannuto trieste con quale indicazione avete archivato questo risultato ci siamo presentati in una non ottimale condizione fisica eravamo parecchio stanchi e questo si è visto non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco come al solito e quindi ne è venuta fuori una brutta prestazione che però da un certo punto di vista benvenga che sia arrivata ora piuttosto che tra due settimane nell'euro cup quindi abbiamo da lavorare su alcune cose abbiamo gli spunti per farlo grazie tra virgolette a questa sconfitta il brutto approccio al match la stanchezza la mancanza del vostro impianto tra virgolette di casa una serie di fattori vi hanno sicuramente creato diverse difficoltà qual è inciso maggiormente sulla vostra prova negativa penso che non allenarsi nella propria piscina è stato un fattore molto molto importante abbiamo dovuto adattarci l'abbiamo fatto nel migliore dei modi però è ovvio che non non abbiamo potuto lavorare come al solito quindi forse questo è il fattore che che è inciso di più l'approccio non è stato non è stato dei migliori però diciamo che è mancata soprattutto la lucidità perché poi il gioco che abbiamo espresso nonostante il punteggio ci abbia visti molto in svantaggio non era non era così così male c'è mancata un po d'attenzione però diciamo che non era proprio da buttare certo si avvicina il momento chiave dell'annata lo hai detto tu meglio ora un passo falso che tra 15 giorni c'è il c'è un sogno da concretizzare quali sono questi spunti su cui il telemar deve lavorare per mettere a posto gli ingranaggi del suo meccanismo c'è da lavorare su tutti i punti di vista in questo momento perché abbiamo commesso errori in fase difensiva uomini pari in fase d'attacco uomini pari uomini meno uomini più quindi dobbiamo ritrovare un po' di continuità nel nostro gioco a Sprazi l'abbiamo mostrato contro il Trieste ma poi abbiamo commesso errori su ogni situazione quindi dobbiamo un attimo ritrovare la nostra compattezza e il nostro gioco in ogni fase che cosa vi ha detto mister Baldiniti alla ripresa degli allenamenti? ci ha detto che non abbiamo giocato come avremmo dovuto versione edulcorata di quel che vi ha detto il mister si riprende a giocare già sabato secondo turno della seconda fase del campionato di Serie A1 vi attende la trasferta di Salerno contro la Rari che partita sarà al cospetto di una rivale che tra virgolette in questo momento ha tutto da guadagnare in ogni partita di questo round scudetto? si incontriamo una squadra che è leggera da ogni stress non ha alcun tipo di pressione perché diciamo che il grosso l'ha fatto il grosso della stagione l'obiettivo l'ha sicuramente centrato quindi saranno liberi da ogni pressione potranno esprimere il loro gioco senza timore questa è un'insidia per noi soprattutto perché noi arriviamo da una brutta sconfitta e quindi ci vogliamo rifare quindi dal nostro lato invece la pressione potrebbe essere determinante in negativo però mi auguro che riusciremo come detto prima a esprimere il nostro gioco e a superare l'insidia di Salerno che tra l'altro è sempre molto giocare a Salerno è sempre molto difficile perché il pubblico è caldo e la squadra è molto ben organizzata Certo Quali saranno a tuo avviso i fattori decisivi per portare a casa i tre punti? Come si esce dalla Vitale con il successo? Si esce giocando una buona partita in difesa senza fare legali come abbiamo fatto a Trieste in questo modo riusciremo a vincere il gioco in attacco non ci manca riusciamo sempre a produrre gioco quindi non sarà quello il problema ma dobbiamo essere più attenti in difesa mettiamola così secondo me in questo modo riusciremo a portare i tre punti a Palermo Hai sottolineato all'inizio lo ribadiamo ancora una volta tra due settimane l'andata della finale di Eurocup sulla vostra strada ci sarà un avversario di quelli tosti e come giusto che sia perché poi chi vuole alzare un trofeo deve battere i migliori che avversario è il Sabadell? Il Sabadell è una squadra completa ben organizzata coperta in tutti i ruoli esprimono un grande gioco dinamico e sarà veramente una battaglia quindi spero che riusciremo a dare un bello spettacolo sia a Palermo sia in casa loro nella gara di ritorno hanno già dimostrato di essere una squadra di alto livello buttando fuori il Sabone da questa competizione quindi ci aspetta la partita più importante e più dura della stagione E chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta hai già giocato l'atto decisivo dell'Eurocup sei forse quello che ha maggiore esperienza in materia che cosa senti di dire ai tuoi compagni in vista di questo appuntamento? Sento di dire che non fa piacere perderla non fa piacere perderla e quindi di dare il massimo perché questa è un'occasione che a pochi soprattutto in Italia a pochi capita nella propria carriera soprattutto giocando in squadre che non sono Recco e Brescia che negli ultimi 15 anni hanno monopolizzato il campionato e quindi tutti i trofei disponibili quindi la possibilità di vincere un trofeo è una cosa che capita raramente di questi tempi direi proprio di non sprecarla di giocare leggeri senza timore di cercare soltanto di vincerla con serenità Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata ringrazio Luca Marziali per averci fatto compagnia e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata Ciao Luca, grazie Ciao, ciao, ciao Andrea